L'asino d'oro, una giornata dedicata al disegno, alla rappresentazione delle anatomie e dei comportamenti animali, si è svolta nei giorni scorsi nell'area verde dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Una giornata in terra, dalle 10 alle 17, che ha trasformato il giardino in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, con tantissimi ragazzi ai loro tavoli da disegno sul prato. A coordinare il lavoro, il docente di scultura dell'Accademia, il professor Matteo Ludovico. La presenza dal vivo di due asini di alcuni rapaci nel parco dell'Accademia, per gli studenti presenti è stata l'occasione per osservare con uno sguardo attento le forme vive della cultura. La giornata è stata rivolta a tutti gli studenti, un invito da parte del docente allo studio, all'osservazione e alla rappresentazione degli animali, attraverso la vista e il disegno. Laboratorio molto apprezzato, che conferma quante belle attività vengono portate avanti dall'Accademia delle Belle Arti, che si conferma sempre più eccellenza nel suo panorama, con un incremento sempre importante di studenti e sempre più collaborazioni con il tessuto locale, che permettono agli allievi di toccare con mano poi il mondo del lavoro.